Dopo il pari interno con il Football Club Messina, la Gelbison era pronta ad affrontare il turno infrasettimanale in programma mercoledì 3 febbraio sul campo del Roccella, ma su disposizione del Dipartimento Interregionale la gara è stata rinviata a data da destinarsi, propri infatti positivi al Covid-19 riscontrati nel club calabrese. La società dunque ha inoltrato formale richiesta di rinvio, allegando la documentazione proveniente dalla struttura sanitaria e, tenuto conto del protocollo predisposto dall'ASL di competenza territoriale, si è deciso per lo stop alla gara. Una nuova partita da recuperare dunque per la Gelbison in questo campionato d'ostacoli, ma il tecnico Ferrazzoli ha già voltato pagina. Dopo esserci presi comunque un punto con il Messina, pur se meritavamo di vincere, ha commentato, ora con il rinvio del match di Roccella ci concentriamo sulla gara in programma domenica in casa con il Dattilo, cercando di fare bottino pieno. Intanto il Santa Maria Cilento non resta con le mani in mano e continua a muoversi sul mercato, assicurandosi le prestazioni del difensore Raffaele De Gregorio, 21 anni, arrivato dai cugini della Gelbison. De Gregorio, infatti, ha giocato con la formazione Rosso-Blu di Vallo della Lucania nell'ultimo anno e mezzo. In passato il difensore di Vico e Quenze, che gioca prevalentemente sulla corsia sinistra, ha vestito anche le casacche nella quarta serie di Legnago, Cesena, Imolese, Mateliche e Adriese. Con la Gelbison vanta 33 presenze e nessuna rete. De Gregorio si è aggregato al Santa Maria Cilento agli ordini del tecnico Gianluca Esposito. Domani la sfida della squadra cilentana con il Biancavilla. La sfida della squadra cilentana con il Biancavilla.